Sicuramente nel tribù Vabbè mica ti arrivano mentre che non fai un cazzo non male che ti vengono a rompere i coglioni Tia, com'è? Eh? Questa qua c'è un'aria Siamo a? Siamo a? Dov'è che siamo qua? Roma Festival internazionale del film Ah c'è scritto qui Arrivano due macchine Molto velocemente In una c'è il mio padre No 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 perché è lo sponsor Ma già ora non hai E' lui! E' lui! E' lui? 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 Eh niente, è passato checchio. Non si è affatto il red carpet che cos'ora, guarda se stai. Da dietro c'è ancora gente dove c'è Checco e forse non erano adesso. E questa è la situazione. Com'è andata ti ha visto Checco? Com'è stato? È di Foggia pure lui e non mi è venuto manca a salutare. Ma sto stronzo. Quando diventerò famoso. Spettando l'attrice. Non so, sono arrivato adesso. Non so, sono arrivato adesso. Ciao.